La procura di Pescara ha aperto un fascicolo di indagine a carico dei vertici di strada dei parchi, la società concessionaria delle autostrade abruzzesi. Il pubblico ministero Luca Sciarretta, infatti, vuole verificare le condizioni di sicurezza dei viadotti lungo la 25 nel Pescarese. Gli indagati per ora sono tre, con le indagini affidate ai carabinieri forestali che hanno già acquisito gli atti al Ministero dei Trasporti a Roma e compiuto sopralluoghi sotto i viadotti. La procura ha incaricato anche per la consulenza tecnica il professor Bernardino Chiaia, vice-rettore del Politecnico di Torino, che entro metà marzo consegnerà la prima relazione sulle condizioni di sicurezza dei viadotti. L'inchiesta nasce dagli esposti diretti alle procure abruzzesi prodotti da varie associazioni ambientaliste, il nuovo senso civico e il forum abruzzese dell'acqua, sulla base dei quali sono stati già aperti fascicole anche all'Aquila e Teramo. Strada dei Parchi considera l'inchiesta della procura di Pescara un atto dovuto a fronte delle denunce a ripetizione assolutamente speciose presentate da alcune associazioni ambientaliste, che, auspica sempre Strada dei Parchi, possa concludersi il più celermente possibile con un'archiviazione. Questo perché, conclude la concessionaria, non esiste alcun inadempimento nella pubblica fornitura del servizio e tanto meno alcun attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.